Una nuova originale iniziativa proposta da APC, premiare le passioni dei camperisti attraverso le loro foto. Sì, noi come APC ci muoviamo su diversi lati e è nata questa idea di consigliare ai nostri clienti o ai futuri clienti dove possono andare con il suo campo. Piccoli viaggi durante il fine settimana e abbiamo creato il concorso interinari dove tanti hanno scritto poi le loro idee con foto, buone esperienze, noi abbiamo pubblicato questi su un sito e oggi abbiamo premiato proprio le famiglie che ci hanno mandato queste idee. Sarà in futuro un sito che consiglia a tutti i clienti dove possono andare, in quale regione, che cosa possono vedere per godersi la tradizione italiana.